Salve a tutti, un caro saluto da Francesco Samani, non vi preoccupate se vedete questo schermo strano, mi avete chiesto tante volte di presentarvi un intervento didattico relativo al colloquio orale, ovviamente non riuscirò in un solo video a dirvi tutti i consigli che voglio darvi però mi avete detto tante volte Francesco prova a fare un esempio concreto, ci siamo io non starò tanto nella modalità presentazione, non ho inserito per brevità transizioni e animazioni perché non siete veramente pochi, quello che adesso mi preme è potervi dare dei contenuti delle idee, dei supporti e niente, ecco prima di iniziare di entrare nel vivo di questo video vi ricordo di iscrivervi, di attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati e lasciatevi un commento per dirmi quello che pensate, allora sono costretto a uscire dalla modalità presentazione perché ecco ho la necessità di argomentare ovviamente quanto dico, allora vediamo se con gli spessori qui ci sono, ok, allora uso la mia penna, vediamo, forse si vede poco, ok, ovviamente scrivo qui colloquio orale, voi scriverete anche, vi consiglio in quale regione, l'ordine, il grado della scuola io adesso non avevo tanta fantasia e ho messo sollecitazione di torsione che riguarda essenzialmente la mia classe di concorso 042, scienze e tecnologie meccaniche, scusate è tantissimo che non uso la lavagna, tra l'altro più di qualcuno me lo chiede sempre che cosa uso, in questo caso una Wacom non vi dimenticate il nome del candidato ma possiamo andare subito avanti, sicuramente l'ambiente nel quale si lavora, quindi l'inquadramento, inquadrare dove avverrà questa lezione, questo intervento didattico, in quale scuola, nel mio caso parlavo di un istituto tecnico-industriale vediamo se riesco anche qui a aumentare gli spessori sono in diretta, tra l'altro, quindi ok la materia, ovviamente abbiamo, mamma mia ah sì, ok, uso questo la materia, perché ovviamente, giusto per dire, siete la 028, matematica e scienze, correggetemi se sbaglio, e sicuramente dovete dire se è un argomento di matematica o se è un argomento di scienze, poi credo che all'interno della 028 forse ci sia qualche altra disciplina se c'è un'articolazione, in che classe si affronta questo argomento, se volete potete anche dire in che periodo dell'anno solitamente si svolge ecco qui che cominciamo a toccare qualcosa di estremamente lungo e complesso che ovviamente vuole essere lungo e complesso cioè è ovvio che quando voi comprate un manuale di preparazione a concorso se magari è approfondito può anche essere di mille, duemila di duemila pagine non lo fanno ma non è che voi dovrete poi parlare, discutere, disquisire di duemila pagine è ovvio che io in questo esempio magari mi dilungherò tratterò tanti aspetti per essere ricco di informazioni ma poi voi dovrete andare a fare una sintesi e andare a prendere quelli specifici che più diciamo si addicono al vostro ambito di intervento didattico allora per programmare una lezione, un intervento didattico in maniera efficace vediamo che entrano in gioco tantissime variabili sicuramente a un certo punto bisognerà dire quali sono, quanti sono i tempi di attuazione quali sono gli aspetti preliminari parlare un minimo della classe pensare a delle verifiche iniziali a quali sono i prerequisiti questo è molto importante perché non si può prescindere dai prerequisiti cioè se trattiamo i binomi scusate che la scrittura tra l'altro sto con un indipendenziatore non si può non aver parlato dei monomi oppure se vi chiedono i prodotti notevoli giusto come esempio quali sono gli obiettivi, quali metodi, i contenuti, gli strumenti utilizzati mezzi su siti didattici, annotazioni per percorsi individuali ma anche personalizzati aggiungerei ho scritto qualcosa è ovvio che poi durante questa diretta mi verranno idee mi verrà in mente qualcos'altro laboratori in classe, compiti per casa, metodologie per l'attività didattica tutto questo fa parte del progetto dell'intervento didattico fino ad arrivare allo svolgimento vero e proprio della lezione che seguirà tutte queste caratteristiche che abbiamo detto alla fine ci saranno delle verifiche e parlare un minimo delle tipologie di verifiche che esistono e poi essenzialmente arrivare anche al processo di valutazione adesso per ognuno di questi elementi per esempio qui parlavo di conoscere la classe vedremo di dire qualcosa in più allora ad esempio potreste pensare di descriverla la situazione della classe come si potrebbe presentare quindi classe che hanno fascialità, numero di alunni se volete quanti maschi, quanti femmine in una classe ci sono dei casi particolari alunno con dislessia quindi DSA, legge 170 2010 un alunno H certificato con 104,92 quindi molto probabilmente ci sarà anche l'insegnante di sostegno e un altro alunno BES ad esempio con attacchi di panico BES, qui cito essenzialmente la direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 come aspetti preliminari bisogna conoscere sicuramente l'età degli studenti il livello di conoscenza della materia le aspettative e il livello generale di motivazione il clima della classe che è importante relativamente anche all'ambiente della classe la presenza o meno di ragazzi BES e DSA quanti i ragazzi il background culturale bisogna considerare sicuramente da dove partiamo il punto di partenza della lezione e la successione espositiva e quindi fino a dove arriviamo il ritmo che va tenuto durante la lezione gli esempi e il linguaggio da adottare i supporti didattici da adottare ad esempio si potrebbe pensare relativamente alle sollecitazioni di torsione si potrebbe pensare a una verifica iniziale semistrutturata per la verifica della sussistenza delle competenze di base per affrontare l'argomento e potrebbe essere strutturata in questo modo domande a risposta di tipo vero o falso quindi quiz domande a risposta aperta domande a risposta multipla che cosa succede? dobbiamo sempre prevedere che i prerequisiti se non vengono soddisfatti si può pensare in questo caso ad una lezione di richiamo a suggerire dei video suggerire dei video possono essere pensati dei percorsi individuali basati sulle esigenze specifiche o dei percorsi di recupero a gruppi perché voglio pensare che non tutta la classe non abbia non soddisfatto i prerequisiti in caso contrario ovviamente dopo la parte insomma di richiamo degli elementi essenziali si potrà a quel punto potenziando quegli aspetti mancanti andare allo svolgimento della lezione anche ovviamente si può andare allo svolgimento della lezione se i prerequisiti sono soddisfatti eventualmente da tutti andiamo velocemente avanti perché sono tante le cose che vorrei dirvi e ovviamente magari conviene spezzettare il video in diverse puntate volevo dirvi qualcosa sulla valutazione che reputo importante la valutazione quindi la valutazione è importante la progettazione didattica non è completa se non prevede anche una fase di verifica e di valutazione della stessa ovviamente quando voi presenterete scrivete qualche cosetta perché la commissione se voi scrivete tutto intanto sembra che le cose non le sapete le dovete leggere questo è un aspetto fondamentale ma poi soprattutto se la se la commissione guarda la lavagna non guarda voi ed è importante che guardi voi e voi cercate di guardare la commissione negli occhi cercate proprio di simulare questo intervento didattico guardando i vostri studenti quando state in classe li guardate negli occhi ovviamente questa non è una presentazione questo è un qualcosa che io vi sto dicendo che la progettazione didattica quindi non è completa se non prevede anche una fase di verifica e di valutazione che si tratta di un momento ovviamente fondamentale per l'insegnante ma anche per lo studente che l'insegnante monitora la propazione oltre a controllare i risultati conseguisi dagli allievi e conseguentemente l'insegnante può modificare il proprio intervento adeguandolo alle necessità che emergono nella lettura dei dati rilevati quindi per meglio definire l'area di pertinenza di questa fase di controllo è opportuno ricamare alla memoria il significato dei termini convolti la verifica è la fase di processo di insegnamento apprendimento attraverso il quale l'insegnante riferisce informazioni atte a conoscere se ed in che misura lo studente ha raggiunto alcuni obiettivi oppure un predeterminato livello la valutazione invece è quella fase nella quale il docente quantifica mettiamo un minimo di zoom sono senza mouse perché non ho la mia multi usb quindi ho dovuto caricare la lavagna non pensavo insomma di dover attaccare anche il microfono quindi non sono tanto abituato a muovermi così la valutazione fase nella quale il docente quantifica i risultati conseguiti dallo studente secondo scala di misurazioni numeriche poi ci ritorneremo ci ritorneremo aggettivali letterali eccetera eccetera contestualizzandoli in relazione con la propria storia con la storia dello studente e con il suo percorso di apprendimento ci ritorneremo due cosette allora che probabilmente sapete allora questa stellina qui significa che c'è una transizione quindi se io vado nella presentazione e vado qui dalla depositiva vedete quindi si apre in questa maniera qua e la transizione la potete vedere qua in questo caso morsa avete la durata potete mettere un segnale acustico ve lo sconsiglio sulla durata giocateci e essenzialmente per non fare troppe slide si può pensare sicuramente vediamo qui se ho una piccola struttura delle animazioni eccolo qua ce ne stanno veramente poche e forse sopra avevo ricopiata questa eccola qua eccola qua abbiamo qualcosa in più allora uno due tre e quattro quindi in questo caso nella presentazione voi vedrete sicuramente questa prima parte non so se si vede il la la punta insomma della mia penna che si muove clicco anzi non ho il mouse quindi clicco con il mouse integrato del desktop svolgimento della lezione verifiche tipi di verifica e la valutazione guardate bene mantieni no le annotazioni appena non le voglio e guardate bene che l'animazione delle di qualsiasi elemento io adesso sono vabbè non uso mai questo mouse io le posso aggiungere vediamo che succede ok ho aggiunto la verifica iniziale come vedete l'ho selezionata in rosso ovviamente posso riordinare tutte le animazioni e posso anche vedere il riquadro vedere la durata e nel riordino io posso decidere che questo 5 ad esempio mi vada più sopra al 4 al 3 posso decidere posso anche andare su questa finestrella inizia con il clic del mouse con il precedente dopo il precedente opzioni dell'effetto intervalli posso anche cliccare vediamo se ricordo bene e spostarmi quindi che ne so questa freccia a destra al clic di entrata io me la prendo e me la metto dove mi pare bene io penso di aver detto tanto non so a quali tempi sono arrivato vediamo un po' sono a 15 minuti mi sembrano anche tanti io vi ringrazio spero veramente di esservi stato utile questo è uno dei tanti appuntamenti relativi alla presentazione del colloquio orale e sicuramente poi ci sarà un analogo per quanto riguarda la prova pratica io vi ringrazio un caro saluto da Francesco Samani